Senza parole Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Aluni e Paolo Pellegrini Cari amiche ed amici, radioascoltatori e imprenditori, buongiorno. Oggi continueremo a fare qualche riflessione, qualche chiacchierata in merito a quella normativa del decreto legge 83-2022 l'epilogo di una lunga e complessa normativa che ha come scopo quello di anticipare la crisi d'impresa ed evidenziare le metodologie nei confronti dell'imprenditore per verificare quali siano gli adeguali assetti organizzativi per misurare la sostenibilità aziendale. Abbiamo fatto una chiacchierata la volta scorsa facendo un po' un volo pindarico su questa norma e continueremo a parlare di questo argomento e eravamo così arrivati alla necessità di dover impostare e definire un sistema di allerta della crisi per rafforzare quindi il ruolo degli adeguati assetti. Dunque, quando scattano gli obblighi di attivazione tempestiva degli organi sociali per il superamento della crisi? E innanzitutto che cosa significa? Cioè ci sono dei presupposti, delle situazioni particolari che per la loro oggettività, per la loro importanza, per la loro valenza, per l'effetto domino che in qualche modo possono provocare fanno sì che gli organi sociali dell'azienda alla quale si si riferisce debbano essere, si debbano attivare in modo tempestivo poi magari successivamente vedremo come. Quali sono i presupposti oggettivi? Beh, li potremmo anche immaginare però la norma, per suonatura, una volta tanto ha indicato degli obiettivi, delle situazioni molto precise molto precise, insomma, alle quali ci si debba necessariamente informare. Allora, gli organi sociali vengono in qualche modo attivati quando i debiti per le retribuzioni sono scaduti da almeno 30 giorni e questi debiti sono pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni. Poi ancora un altro presupposto per far scattare così insomma un ritorno di fiamma verso l'impresa è che i debiti verso fornitori siano scaduti da almeno 90 giorni e l'ammontare è superiore a quello dei debiti non scaduti quindi ci sono debiti scaduti superiore a quelli che non sono ancora scaduti. Le esposizioni verso le banche e gli intermediari sono scadute da più di 60 giorni e rappresentano almeno il 5% delle esposizioni complessive. I ritardi nei pagamenti determinano l'attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati intendendo per tale, l'erario, l'IMS e quant'altro. Dunque risulta abbastanza evidente la rilevanza della nozione di organizzazione aziendale quale strumento principale per l'emissione tempestiva della crisi. È chiaro che ci deve essere una struttura interna con la capacità di poter evidenziare tutte queste cose. Come abbiamo visto questi quattro elementi possono derivare tranquillamente dalla contabilità. Una contabilità che deve essere tempestivamente aggiornata. Poi su questo ritorneremo. L'imprenditore, in questo caso, sia commerciale che agricolo è in grado quindi di adottare efficaci strategie risolutive di comprendere per tempo se sia il caso di avvalersi di istituti di composizione e della crisi particolari solo qualora ne sia perfettamente a conoscenza. Rivolgendosi alla Camera di Commercio, l'imprenditore in condizioni di equilibrio patrimoniale di squilibrio, patrimoniale, finanziario e economico può richiedere la nomina di un esperto indipendente. Aspetterà poi a quest'ultimo che deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile di agevolare le rattative per il risanamento con l'obiettivo di risolvere lo squilibrio che altrimenti potrebbe rendere probabile la crisi o l'insorbenza. Ma senza andare oltre e magari provare a raccontare le cose un po' in ordine, un po' in fine da tutto questo discorso ci portiamo a casa l'importanza di introdurre in azienda un meccanismo organizzativo amministrativo e contabile in grado di rilevare questi aspetti. Questo diciamo è un discorso molto molto interessante e molto significativo perché spesso e poventieri magari si opera soprattutto anche diciamo nelle fasi amministrative una per tutte la contabilità solo pressoché solo esclusivamente con una finalizzazione legata all'assolvimento di incombenze amministrative. Credo che invece tutto questo discorso possa essere sconfessato dallo spirito di una norma che vede nella presenza di adeguati assetti organizzativi un must al quale l'imprenditore personaturo si deve informare. In poche parole la contabilità l'aggiornamento tempestivo puntuale della contabilità diventa un fattore importantissimo perché è in grado di poter segnalare di poter contribuire alla segnalazione di di quei meccanismi di quei quattro elementi assolutamente oggettivi che potrebbero in qualche modo porre l'imprenditore in una condizione di massima attenzione. Quindi come vedete si ritorna sempre lì bisogna in qualche modo far sì che si possano adoperare tutti gli strumenti a disposizione dell'azienda che non si deve disperdere il valore cognitivo informativo di tutto quello che si ha perché altrimenti si entra in un giro in un loop di spreco è assolutamente importante che prima di poter pensare a chissà cosa acquistare per poterci far dire come funziona la nostra azienda si possa pensare agevolmente intelligentemente di utilizzare quello che si ha la contabilità personatura per chi ne ha ovviamente una buona padronanza è uno strumento cognitivo e informativo formidabile serve ovviamente all'impresa per segnare il passo per fare in modo che tutte le incompense amministrative siano nella condizione di poter essere assolte con serenità ma al tempo stesso produce una messa informativa talmente importante che se canalizzata in strumenti intelligenti possono restituire la visione di un'impresa che può fare invidia al miglior gestionale di questo mondo bene ovviamente su questo ritorneremo perché insomma l'argomento non è che sia così semplice è un argomento complesso un argomento significativo importante che abbraccia un po' tutta una serie di aspetti che riguardano l'impresa quindi su questo ritorneremo intanto vi auguro un buon pranzo una buona riflessione sul meccanismo di anticipazione della crisi d'impresa e come dico sempre al piacere della prossima occasione con Ameria Radio Ameria Radio ha presentato parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini senza parole e va bene così Grazie a tutti Grazie a tutti